Questo annullo significa il riconoscimento del lavoro svolto, il riconoscimento dell'impegno di migliaia di persone che in questi 30 anni hanno portato avanti i progetti, i valori di sviluppo. È un grande riconoscimento che va a tutta questa gente e sicuramente è un impegno perché si continui con questo lavoro, si continui con questi progetti e in qualche modo riusciamo a dare prospettiva alle progettualità di sviluppo di Italia.